Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e questo sarà il video di spacchettamento campagna 14 di Avon Madonna, io proprio sono incapace di questo coso Se ho una location nuova, sono sul mio letto per motivi di dove poggio la roba Allora, mi sono arrivate due scatoloni Della stessa grandezza E inizio, io vado a caso Prima c'è un volantino che è per noi presentatrici, quindi non so neanche farvelo vedere C'è un primo sacchettino, perché mi hanno messo qui i campioncini Questi sono cose per noi presentatrici che non sto a farvi vedere Vi farò vedere poi il kit della presentatrice Mi hanno mandato un catalogo di campagna 16 con le offerte esclusive per noi presentatrici Poi vi farò magari un video piccolissimo come catalogo rispetto agli altri Mi hanno mandato i supplementi per campagna 15 Questa è campagna 16, non so cosa vi ho detto Poi, niente delle informazioni per noi Un altro sacchetto che è sempre contenente campioncini per noi presentatrici Ok, iniziamo Prima di tutto mi è stato ordinato questo che è un contenitore a forma di rossetto Ve lo posso aprire perché è di mia sorella Cioè, veramente non ha preso mia sorella per me Quindi, ecco, così È un contenitore anche per i pennelli, per qualsiasi cosa, per la postazione dei make-up Secondo me è davvero una chicca Sono emozionata, ragazzi, si capisce? Non vedo che lo rendi verso il pacchetto Poi mi è stato ordinato questo che però fa parte di un set Esatto Eh, sì Ce la posso fare Vabbè, non so dove sono i pezzi Ve li farò vedere man mano Questo è uno shampoo Due in uno è shampoo e balsamo all'albicocca Questo lo devo aver odiato anche mia mamma Però questo qua non so qual di chi è E insieme c'è Oddio, lo sapete che non so Vabbè, questo Poi abbiamo due di questi qui Diciamo, sempre formato mini, diciamo, di quello Penso che questo sia di mia sorella Ho sbagliato Questo è di mia sorella E questi sono Falle entrare! E due in formato mini Poi mi sono stati ordinati due di questi magnoschiuma carinissimi Che erano in promozione I Mr. Frosty Guardate che carini Sono all'arancio, al cranberry e alle spezie Me ne sono stati ordinati due Poi ho questo set Esatto Questo set qui, molto carino Della Boncare Praticamente è un set Dove abbiamo una crema corpo E una crema mani E la gricerina A set natalizio Poi Questa vi faccio vedere dopo Perché è un'anteprima Ah, questi sono altri Cataloghi di Campania 16 Ve li sto a far vedere Poi vi farò un video apposito Mi è stato ordinato un Avon Sensi Spice Al Marocanoil Delight Praticamente è un bagno schiuma Al Marocanoil Questo lo sniffo perché è di mia sorella Che buono Buonissimo Poi ho una crema corpo Una crema mani alla glicerina Mi è stata ordinata sempre dalla stessa signora Che mi ha preso l'altro set Questo che non so cosa sia Ah, questo che è Sono degli orecchini Che non vi posso far vedere Perché sono Oh sì, posso farveli vedere Se vedono Sono questi qui Non so come funziona Sto aggeggio Sta caramella qui Ma Si è un po' aperta Aspettate che la metto a posto Ok, ci risuono Poi Vi faccio vedere quello che ho qua Altri cataloghi Sapevo neanche l'ordinavo io Ok Altri Fogli Fogliastri Informazioni Questo è il tutto per te Campagna 17 Le anteprime Quello della casa Che mi mancava Questo è anche il tutto per te L'altro Qua dovrei avere la fattura Da pagare Esatto Con tutto quello che ho preso Ho preso i sacchetti Me ne sono stati inviati anche Io avevo preso i miei Mi sono stati inviati anche i piccolini Poi Mi è stato ordin... No Allora Questo non so se era Probabilmente è uno dei kit Che ho preso io Dove c'era il rossetto Questo qua è L'ultracoro Lipstick Rouge Levers Ed è il Pout Che è praticamente un colore Nude pescato Non so quanto si vedrà Poi ve lo faccio vedere nel kit Poi mi è stato ordinato Insieme a un portapennelli Questo pennello Questo quello Dovrebbe essere Quello viso Da polveri Non ve lo posso far vedere Perché è chiuso Poi La Glimmer Stick Dovrebbe essere la mia Quindi ve la faccio vedere Che è una matita Questo è il packaging Della scatola E la Glimmer Stick È quella nera Fatta così Ok Non sto a swatcharla Perché non sono sicura Se è la mia Posso farvela vedere Comunque perché ho chiesto Se non è la mia Di mia scognata Quindi Questo invece è mio Ed è Ho provato a prenderlo Per curiosità Della Color Trend È questo ombretto In glitter Che dalla foto Sembrava un marroncino In realtà È un bellissimo Color Prugna Sì Praticamente Rilascia solo glitter Comunque vedremo Poi Questo Poi un'anteprima Ve la faccio vedere Ho preso in anteprima I guanti Quelli che hanno Il cosino sopra Che puoi usare Il computer Il touch Del cellulare E quant'altro Nell'altro scatolone Ho Un catalogo Di Campania 17 Con le offerte esclusive Un'altra crema a mani Al burro di cacao Della Avon Care Poi ho Della Avon Care La Rich Moisturize Che è una Saponetta Alla glicerina Vitamina E Poi Ah sì Questa Ce n'è anche un'altra Vediamo se la trovo Questo set Di due creme Della Solution Una un po' Maccata la scatola Che sono Dai 40 anni In su No Non dai 40 anni In su Scusatemi Per le rughette L'espressione E quant'altro Poi mi è stato ordinato Una Mousse per i piedi Da 150 ml Dell'Avon Footworks Poi un'altra Crema a mani Sempre la stessa signora Mi ha fatto una scorta Di crema a mani Questa qui è Al Al Propoli Al miele Praticamente Ok Poi mi è stato ordinato Questo bagno schiuma Amazon Jungle A gel Della Amon Sensive E questo lo sento Perché è il mio cognato Molto maschile Molto Molto selvaggio Ecco Poi questo qua L'ho provata a prendere io Veramente mia mamma L'ha preso Comunque Dell'Avon Questo qua La frago Il bubble butt La fragola Da un litro Gigante E niente Non so neanche l'odore Francamente Proviamo Tanto Lo dobbiamo usare noi In casa Aia Fa Amarsissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimo E la crema Al burro di karité E al bicocca Queste qua Praticamente Ho le altre due Dell'altra Poi Mi è stato ordinato Due deodoranti Roll on Questo è il Pur blanca Da donna E invece Questo qui è il Full speed Adrenaline Da uomo Poi Mi sono stati ordinati Due Aggeggini Di questi Allora Uno Mi è stato ordinato Con due pennelli Un pennello L'avete visto E sono i portapennelli Ok E un altro Vi faccio vedere Poi con cosa Uno Ve lo posso aprire L'altro No Infatti che anche Se lo apro Si può richiudere E' veramente bello E' fatto Opaco E niente Portapennelli Semplice E' veramente elegante Come è fatto Mi piace Poi Sta venendo un video Lunghissimo Allora In anteprima Mi hanno mandato Due pochette Non capisco Perché Ma comunque Penso una Sono omaggio A sto giro Perché le creme Sono solo due Non lo spevo Comunque Questo kit di creme Una giorno Una notte Della solution Per Anti rughe Anti età Diciamo Ed erano insieme Alla pochette Mi sono state mandate Due pochette Adesso devo capire Bene il perché Una Penso in omaggio O hanno sbagliato A mettermi Non lo so Adesso vediamo Questo l'ho preso In anteprima Per la mia mamma Poi mi è stato ordinato Appunto Lo struccante Con Oddio Lo struccante E mi ha ordinato Anche il correttore Dell'Estralaxing Quello Colorazione media Ultra Che dura tanto E lo struccante Per prendere Un Portapennelli Poi Questo lo faccio vedere Dopo Questo è l'altro pennello Che mi era stato ordinato Questo l'ho da blush Un po' di roba Della Color Trend Che Non so cosa sono Ste cose Ah si Sono Io Ve ne faccio vedere Solo uno Perché sono tutti uguali Praticamente Uno è mio Quindi ve lo posso Anche far vedere Praticamente Sono quei matitoni Con la punta Super Assiluro Eccoli qua Della Color Trend Sembravano più grandi Uno è mio Ve lo posso far vedere Questo è Il viola È il violet Infatti Ed è questo matitone qui Che potete fare A linea d'eyeliner Oppure Usarlo come matitone Proprio Della Color Trend Non mi ricordavo cos'era Dove controllare Questa pochette Perché non mi convince Questa è la Nail Expert La penna correttore Per smalto Poi abbiamo Allora In anteprima Poi un butto Di campioncini Ci sono In anteprima Ho preso Mi spuccio Con tutta la strada Adosso Va bene Poi Ultimo prodotto È questa Che ho preso Anche prima Che praticamente È una tutina Per bambini Quindi ve la posso Far vedere L'ho presa Così posso farla vedere A dei clienti Prima di tutto Il secondo luogo Poi la utilizzerò Come regalo Di Natale È bellissima Con il cappellino È davvero carinissima E io penso Che a mio nipote Dovrebbe stare Niente Queste Poi tantissimi Altri Campioncini Niente ragazzi Questo era il mio video Di spacchettamento Di campagna 14 Poi vi farò vedere Il kit completo Vi mando un grande bacio E al prossimo video Ciao belle Stavo scherzando C'è anche questo Solo che l'avevo tirato fuori Non me ne ho accorta Praticamente È il kit Che ti danno Se tu paghi Aspetta Non adesso Non adesso Aspetta Che ti danno Alle presentatrici Come nuove arrivate Me l'ero completamente Dimenticato Sì è questo Aspettate Vi faccio vedere Allora abbiamo Il mascara Avon Super shock Poi ho una Glimmer Sì che a questo punto Penso sia nera Anche questa Non lo so No questo è blu Meno male È blu Un blu noto Tè però Un blu Blu matte Però un blu Meno male Perché non è uguale all'altra Questa qua Vabbè Nell'altra cosa Che mi ha True color Una palettina Questa è la Purple Haze Sarà sui toni del viola Se giro Molto bello Elegante Il packaging Con scritto Avon Belli Mamma Che bel colori Bellissimo È proprio Invernale Questo è un color Una via di mezzo Tra un binaccio E un viola Un porpora Veramente bella Veramente Veramente Bella Poi mi hanno dato Due rossettini Diversi uno dall'altro Sono il Sparking Nude Red 2000 E sono Della Ultracolor I colori Sono questi Ok Non sto a far vedere A più di tutti Se non divento matta Poi mi hanno dato Quattro campioncini Di fondotinta Che tutte queste cose Le utilizzerò Quando andrò A far provare La roba alla gente Eccetto questo Che è uno shampoo Al Moroccan Oil Olio di Moroccan Oil Ok Poi un mini kit E della Inuvital Dai 25 anni in su Che comunque Che questo Mi porterò In modo da far vedere Alle clienti Perché questo qui È una Un flacone Prova da 15 giorni C'è il contornocchio La crema giorno La crema notte E il Detergente E poi Il profumo Far away Da 50 ml Questo è un kit Che davano Le presentatrici Guardate che carina La postina E devo dire Che questo profumo È davvero buonissimo Niente ragazze Questo era davvero tutto Vi mando un grande bacio E al prossimo video Ciao